Tour dei miei vecchi disegni sull'iPad Prima che me lo chiederete in tantissimi L'applicazione si chiama Procreate Ok allora iniziamo dal principio I primi sono i più belli perché erano quelli In cui mi impegnavo di più Ad esempio questo l'ho fatto veramente io Ed è Pology Guardate la perfezione di questo disegno ragazzi Cioè è stupendo Allo stesso modo stavo facendo anche Sfere basta ma non l'ho terminato Ho fatto anche Lil Peep Questo ragazzi è un disegno Ve lo posso assicurare Poi questo l'ho fatto sempre io Ed era un'illustrazione E questo è Achille Lauro Era una copertina per una cosa Non mi ricordo Questo è un disegno così a caso mi piaceva È Medusa Mi ricordo che ci ho messo tantissimo a farlo Ma il risultato è spaziale Primo periodo in cui disegnavo I Vip in versione cartoon Questa è Gaia Bianchi Questo è Villa Banks Questa vabbè era una mia followers Questo era un tiktoker Questo è